Essere studenti del Collegio del Mondo Unito ci dà una marcia in più perché siamo studenti da paesi diversi, ci conosciamo, abbiamo tutti un desiderio in comune che è quello di vivere in un mondo diverso da quello di oggi e cerchiamo di raggiungere questo nostro obiettivo conoscendoci e facendo della diversità non una barriera ma qualcosa da apprezzare e da usare come arma contro l'odio che domina il mondo. Tu da dove vieni? È da Torino ma sono marocchina, di origine marocchina. Presidente Zanin, se uno dei suoi figli le dicesse papà voglio far parte del Collegio del Mondo Unito, lei ne sarebbe orgoglioso oppure no? Sicuramente sì, penso che sia un coacervo di esperienze, di etnie, di religioni, di capacità che possono solo che arricchire un giovane, possono arricchire la sua relazione, possono far sì che la mente si apra verso esperienze diverse, culture diverse, lingue, territori e quindi in ultima analisi avremmo un ragazzo che alla fine del suo percorso di formazione capisce, conosce l'altro e conoscendo l'altro conosce se stesso. Con i nostri 188 ragazzi di 80 paesi il mondo è qui, il mondo è a Duino e l'altra cosa straordinaria è un collegio che è il paese e il paese che è un collegio perché le aule, i laboratori, le residenze dei ragazzi sono sparse nel paese, quindi il paese è occupato pacificamente dai ragazzi. Ma secondo lei viene capito quello che si fa in questo collegio? Chi avvicina il collegio viene capito, sì. Bisogna avvicinare più persone al collegio e avvicinare il collegio al territorio intorno. Lei cosa vorrebbe sentire dire dai suoi ragazzi una volta usciti da qui? La frase più bella che potrebbero dire? È stata un'opportunità meravigliosa perché il collegio è per moltissimi dei nostri ragazzi che hanno le qualità, le caratteristiche, le potenzialità ma che non potrebbero permettersi spessissimo per ragioni economiche o per ragioni anche culturali della famiglia uno studio così di qualità perché il collegio dà un'istruzione eccellente, un diploma valido in tutto il mondo internazionale e una educazione etica. Ecco, il collegio dà un'opportunità che può cambiare la vita. Quando è crollato il muro di Berlino ero qua e festeggiavo nella piazzetta di Duino insieme a un ragazzo cieco, un ragazzo slovacco, dei ragazzi polacchi e per loro la vita da quel giorno è cambiata. Quando io ascolto le notizie del mondo per ogni paese ricordo una persona fisica che ho conosciuto al Collegio del Mondo Unito e di cui ricordo le preoccupazioni, le passioni, gli interessi e per me è quello come un ambasciatore di quel paese del mondo che è rimasto nel mio cuore. Io credo che la regione debba stare vicino, deve sostenere l'attività formativa perché consente un doppio risultato, ho la possibilità di alcuni ragazzi della nostra regione a poter partecipare attraverso questa formazione, a una formazione di carattere mondiale, globale, ma dall'altra parte chiamare qui in regione migliori intelligenze, le migliori capacità, le disponibilità da tutto il mondo di ragazzi che vengono in qualche modo a innervare, ad arricchire anche la nostra regione con la loro presenza fisica, con la loro attività, con i loro agni di studio.